Allora, siamo qui adesso negli spogliotogli della futura energia novembre, una partita veramente dove era iniziata a salire, ma poi con calma, con pazienza, pur avendo avuto più occasioni voi che il Philadelphia. Cosa è successo, cosa ha scatenato? Il gol vi ha dato la forza e l'energia di poter andare avanti? Sì, è stato il gol a scatenare questa energia. La vittoria è data dalla forza di squadra. Siamo un gruppo abbastanza unito. È il primo anno che giociamo insieme. Diciamo che stiamo prendendo confidenza col passare del tempo. Tentiamo di vincere questi regionali. Ricordiamo che passate subito alle semifinali. Il risultato poteva andare anche oltre per quello che è successo. Io ho visto tutti bravissimi, però ho visto un grande Politi, il capitano dove è veramente a diretto in difesa in modo eccezionale. Poi possiamo vedere che un piccolo merito va anche al portiere Corpi. Certo, certo. Quando vuole il portiere è il numero uno. Quando vuole sempre, però. Perché alcune volte... No, ogni tanto gioco con gli avversari. Quindi passiamo subito a Corpi. Corpi, sei stato veramente bravo, complimenti, però alla fine hai fatto arrabbiare Mr. Cento. Mr. Cento che è anche qua presente. Alcune volte quando parto di testa, faccio di testa mia, fa bene gridarmi, diciamo, perché comunque cerca sempre di correggerci. Comunque la vittoria è anche merito suo, perché comunque negli spogliatoi sull'1-1 era importante non perdere l'attenzione. Quindi diciamo che è anche merito suo alla vittoria. Ricordiamo che Mr. Cento vuole sempre la concentrazione fino all'ultimo, non guarda mai il risultato, ma ci tiene che voi giocate sempre in modo lineale. Vuole il pressing alto, ho visto perché vi diceva sempre state su quando si passa la palla, mentre alcune volte voi avete un pochettino diciamo non sentito il coach. Bisogna dire che inizialmente avevamo preparato la partita ad aspettarli dietro, la nostra metà campo, comunque per studiarli, però come abbiamo visto che erano lenti ad uscire dal pressing, il mister ha detto attacchiamo gli altri perché si è rivelata una mossa vincente. Infatti dopo il dodicesimo del secondo tempo il Fredelf è andato veramente nel pallone, non ha capito niente, il coach si arrabbiava ma i giocatori non c'erano più. Questo è anche merito nostro perché comunque durante la settimana alcune volte il mister ci dà dei carichi di lavoro importanti, corriamo quindi appunto siamo molto preparati dal punto di vista atletico e quindi anche forse anche per questo riusciamo a venire meglio nel secondo tempo fuori. Possiamo dire che Capriglia se faceva cinque gol non toglieva niente. Capriglia alla fine ha preso il palo, non so che ha fatto, si è andato di testa, non lo so, poteva essere più rotondo il risultato ma va bene così. L'importante è che la futura energia va avanti, adesso arriva il coach 100 perché lo vediamo anche, non lo so io, anche se ha vinto però non è contento, contento non del risultato coach, i ragazzi bisogna dare veramente un applauso, anche se alcune volte la fanno arrabbiare ma bisogna farli crescere in questo modo, mister. Sì, senza dubbio, devono crescere, devono crescere ancora tantissimo ma dal punto di vista non fisico ma mentale, poi non sono contento, sono contentissimo, però io quando vinco perdo sono sempre così, anche per rispetto degli avversari. Era una partita difficile perché loro sono una bella squadra, i ragazzi hanno giocato come io avevo chiesto, poi si può sempre giocare meglio ma questo dipende soprattutto, ripeto, non dall'aspetto fisico ma dall'aspetto mentale. Il primo tempo noi abbiamo calcolato che se finiva 3-1 per il suo vallato non aveva rubato niente perché troppi errori proprio vicino alla porta. Quello che ho detto io negli spogliatoi, loro sono stati bravi a capitalizzare l'unica azione che gli abbiamo lasciato e noi sotto porta c'è mancata la cattiveria che a volte serve per sbloccare il risultato e giocare più tranquillamente. Infatti nella ripresa sul 3-1 i ragazzi hanno giocato mentalmente libri e hanno giocato meglio. Adesso andremo a fare questo triangolare, non si sa ancora dove, le squadre che lei prevede sono alla nostra portata? Allora la fase delle semifinali si svolge così. Ora ci saranno due gironi da tre squadre e noi siamo nel girone del Regino. Non vuole essere una giustificazione, per l'amore del cielo, è da sempre il girone del Regino e il girone tecnicamente più difficile, oltre che tatticamente. Le squadre che dovremmo incontrare non lo sappiamo perché io non so oggi che hanno fatto le nostre probabili avversarie. In ogni caso gli accoppiamenti, noi disputeremo la prima in casa, forse già domenica prossima. La vincente riposerà e ci sarà lo scontro tra chi ha perso e chi ha riposato. E nell'ultima partita giocheremo con chi ha disputato una sola gara. Dunque noi diciamo che tutti si devono guardare nella futura energia, non abbiamo paura di nessuno. Si va in campo sempre per vincere. Io rispetto tutti ma non ho paura di nessuno, ho paura solo e l'ho detto sempre in tutti gli altri anni, solo dai miei ragazzi. Perché, come diceva Corapi, non se partono di testa, magari partissero con la testa, ma non la usano la testa. Dovessero usarla, ci giochiamo la partita con tutti. Quando non la usino andiamo in difficoltà con tutti. Cocci, bocca al lupo di vero cuore. Grazie.